Con la sua dolcezza e semplicità, il French Toast ha conquistato tutto il mondo. Infatti esistono diverse versioni che cambiano da paese a paese. Il French Toast è la colazione perfetta per un dolce risveglio. Se provate anche voi il mio French Toast, la mia versione, lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate. Facile, veloce, delizioso. 2 uova formato L, sono quelle grandi, 80 ml di latte parzialmente scremato, potete utilizzare anche un latte vegetale, 3 cucchiai di zucchero semolato, cannella a piacere, amalgamate benissimo il vostro composto, padella antiaderente, fate scaldare pochissimo burro e poi ragazzi vi serviranno o delle fette di pan brioche, oppure potete utilizzare il pan carré, io ho utilizzato il pane per sandwich, che è quello un po' più grande, come vedete è quello grande, largo, morbidissimo, e ho realizzato così il mio French Toast. Ragazzi, facile, veloce, ma soprattutto super goloso. Provate anche voi la mia versione del French Toast e se lo provate lasciatemi un commento, vi aspetto sul mio canale YouTube Cartesia.